Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend a Scoprire. Venerdì 24 febbraio a Frosinone alle 18 nell'auditorium Daniele Paris del Conservatorio, appuntamento con nuovi interpreti in concerto, dei pianisti Cristiano Vecchi e Manuel Caruso. Sabato 25 febbraio a Danani, a partire dalle 14.30 in Piazza Cavour, in programma la festa mascherata dedicata a tutti i bambini, con giochi, baby music, sfilate in maschera e tanto intrattenimento per tutti. Domenica 26 febbraio ad Aquino, per tutta la giornata, presso il Centro Ippico La Staffa, si svolgerà il secondo raduno nazionale per boxer, organizzato dal gruppo nuovo latino Boxer Club Italia. A Collepardo, presso la Certosa di Trisulti, visite guidate alla Certosa, a cura del Centro Guide Cicerone. A Danani, in occasione della quarta festa del Carnevale a Tufano, dalle 13.30 in località Tufano, secondo appuntamento con la sfilata dei carri allegorici. A San Giorgio Allieri, a partire dalle 14, in occasione della 34esima edizione del Carnevale San Giorgese, si tiene la sfilata di carri allegorici, con partenza e arrivo da Piazzale degli Eroi, dove saranno distribuiti polenta e vino novello. Per inviare le vostre segnalazioni, chiamate al numero 0776 728035